Io sono Federico Valerio, mi vedete? Ah va bene, ok, scusate perché non ho un po' di esperienza anch'io. Quindi sono Federico Valerio, io sono un chimico specializzato nella chimica ambientale. Quindi è una, come dire, una branca della chimica abbastanza recente, che si è sviluppata in modo abbastanza recente, e con questa veste ho diretto per molti anni il laboratorio di chimica ambientale dell'Istituto Tumori di Genova come chimico, quindi con una piccola equipe di colleghi e noi ci siamo interessati di una cosa che interessa anche a voi, cioè la qualità dell'aria della nostra città. Quindi se oggi anche voi potete respirare insieme a noi un'aria un pochino più pulita, lo si deve a un lavoro di tante persone. Poi sentiremo anche qui l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale che è presente, che ci darà una mano in questo progetto. Dicevo, se questa qualità dell'aria è buona, perché oggettivamente è più buona di quanto non fosse quell'aria che hanno respirato i vostri genitori, tanto per fare un esempio, i vostri coetanei più grandi, lo si deve al lavoro di tante persone che hanno operato a livello cittadino, anche come studio e come ricerca, per individuare le fonti di inquinamento e per cercare di ridurre questo inquinamento. Obiettivo che è stato raggiunto e che poi negli incontri che faremo con degli esperti che verranno nelle vostre classi vi spiegheremo con maggiore dettaglio. Ora, oggi siamo qui per parlare di questo progetto che abbiamo chiamato sentinelle dell'aria. Poi farò una breve presentazione dopo aver invitato a parlare gli invitati che sono presenti in rete che mi state vedendo. Ora, perché sentinelle? Sentinelle perché bisogna stare in guardia per poter difendere un bene prezioso che è la qualità dell'aria che respiriamo. Non so quanti di voi sono consapevoli di questo fatto, no? Che noi inaliamo automaticamente senza neanche rifletterci quantità molto grandi di aria e non ci preoccupiamo della qualità di cose che stiamo immettendo nei nostri polmoni in questo momento. Ora, è un aspetto importante perché legato a questo problema della qualità dell'aria che respiriamo c'è anche la qualità della nostra salute. Ora, per questione di privacy non faccio con voi un piccolo, come dire, sondaggio istantaneo che ho fatto molto spesso con le altre classi. La domanda che comunque vi rivolgo e voi, ognuno di voi, ci ripensa e poi magari vi confidate con i vostri amici la risposta è quante di voi hanno problemi di asma o problemi di tipo respiratorio. Io sono convinto, vedo che ho qualche mano alzata, ma non la chiedo perché, ripeto, sono questione anche un po' private. Però sono sicuro che se io avessi fatto questa domanda appunto ai vostri genitori, come prodasse che abbia fatto, perché io ho cominciato a lavorare negli anni Ottanta appunto alla tutela della qualità dell'aria di questa città, le mani alzate probabilmente erano molto di più. Questo perché le sostanze che in qualche modo fanno scatenare fenomeni asmatici erano molto più frequenti e molto più concentrate di quanto non lo siano adesso. Quindi adesso voi siete, come dire, invitati a diventare appunto sentinelle. Poi vi darò qualche dettaglio per la partenza. Io sentirei, allora, Pinuccia Montanari che segue, diciamo, ecco perché scusate, mi sono dimenticato di dire, io faccio parte dell'Ecoistituto Reggio Emilia Genova perché abbiamo fatto questo gemellaggio tra queste due città e Pinuccia Montanari è stata la presidente, insomma ha lanciato quest'idea e adesso vi racconterà, interverrà lei per raccontarvi che tipo di contributo stiamo costruendo per voi, per i vostri insegnanti, per fare in modo che, come dire, questo percorso che cominciamo praticamente oggi insieme possa essere fruttuoso anche per voi. Pinuccia, se vuoi intervenire. Bene, grazie, grazie Federico Valerio. Naturalmente vi saluto tutti e tutte. Io porto tra l'altro anche proprio i saluti della coordinatrice della parte didattica di questo progetto che è la professoressa Rosa Frammartino questa mattina impegnata in un importante evento tra l'altro in alcune scuole reggiane nel suo progetto Noi contro le mafie e per ricordarvi appunto molto sinteticamente qual è il percorso didattico che noi proponiamo collegato appunto con tutta l'attività laboratoriale che ha ideato e pensato appunto Federico Valerio. Naturalmente tutto questo si fonda su una questione centrale che abbiamo anche messo in questo piccolo dossier che vi ritroverete, che sarà appunto a disposizione degli insegnanti con tutte le risorse informative dicevo questo percorso si basa su un'idea centrale che è anche quello che un po' ha riconosciuto con la modifica costituzionale la nostra Costituzione proprio lo scorso anno. Cioè il diritto all'ambiente come un diritto umano fondamentale e che è sulla base appunto dell'affermazione di questo diritto oggi dobbiamo anche affrontare le grandi sfide che sono soprattutto appunto la grande sfida che anche voi conoscete bene che è la sfida dei cambiamenti climatici e che avremo modo tra l'altro di approfondire proprio durante l'attività didattica che affianca appunto questo percorso invece più laboratoriale. Molto sinteticamente le tappe di questo percorso è un percorso didattico che mette a disposizione la prima tappa come cuore il concetto di conoscere quindi saranno messi a disposizione una serie di documenti che saranno appunto disponibili anche ad esempio dai media quindi dai quotidiani, da materiali ricavati dalle radio dal cinema, dalla televisione fino ad arrivare appunto ad una analitica valutazione degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. È un'agenda importante perché segna una serie di indicatori tra l'altro proprio per capire dove stiamo andando come ci stiamo andando. La seconda tappa prevede, si fonda su un concetto fondamentale che è quello dell'approfondimento quindi noi proponiamo in questo percorso didattico e mettiamo a disposizione una ricca bibliografia sulle principali questioni ambientali e poi proponiamo quattro lezioni tematiche che saranno dedicate appunto ai temi del progetto quindi le quattro lezioni si dovrebbero articolare sul tema che già ricordava prima il dottor Federico Valerio quindi ambiente e salute ambiente e le varie tipologie di inquinamento ambiente e mobilità ambiente appunto e cambiamenti climatici La terza tappa a restituire si fonda invece su una la terza tappa del percorso su un'altra dimensione cioè l'attivazione proprio di attività laboratoriali anche per motivare in voi studenti in questa relazione che può nascere anche appunto nella relazione tra noi e voi di attività più creative e quindi lì potranno essere individuati anche appunto soprattutto con la guida dei vostri insegnanti lezioni magistrali o contributi informativi e comunque anche elaborati degli studenti in grado appunto di approfondire delle questioni magari tematiche che durante l'attività anche di laboratorio l'attività laboratoriale insomma sperimentale concreta che voi metterete in campo possono emergere poi potranno essere usati tutti quegli strumenti didattici che normalmente vengono utilizzati che sono molto utili proprio per far sì che chiunque si avvicini a questi temi ne diventi anche protagonista quindi video inchieste recensioni schede proprio di report della propria attività e quindi imparando a fare oltre che a riflettere su quello che stiamo facendo naturalmente appunto dicevo e qui chiudo mettiamo a disposizione attraverso questo dossier lo trovate appunto soprattutto nella parte finale del dossier tutta una serie di documenti come appunto una interessante anche aggiornata bibliografia su queste tematiche un percorso appunto bibliografico di approfondimento con anche la filmografia e anche un questionario preliminare che ci può anche aiutare appunto a capire da dove partiamo e dove vogliamo arrivare quindi il tutto dicevo in una cornice importante che è quella dell'affermazione del riconoscimento del diritto all'ambiente come un diritto all'ambiente sano come un diritto fondamentale di tutti e soprattutto appunto per le nuove generazioni Bene, grazie Pinuccia e adesso passo la parola al dottor Grasso degli ARPAL Marghi, spiegherai tu chi è ARPAL perché non credo che tutti conoscono la tua organizzazione Prego Sì, grazie Federico grazie a tutti quanti per l'invito per poter partecipare a questa interessante iniziativa Allora, sono Federico Grasso, sono un ingegnere e fino all'anno scorso mi occupavo di ambiente a 360 gradi nel senso che ero fondamentalmente alla comunicazione spero che si senta mi confermi il suo perfetto, benissimo e da quest'anno, dal mese di maggio sono stato assegnato al settore dell'aria e quindi è questo il motivo per cui mi vedete qua quest'oggi Io appunto ringrazio per l'opportunità che ci è stata data per questa bella iniziativa che porta l'attenzione di voi ragazzi che siete il futuro il presente e il futuro della nostra società su una tematica molto molto importante e molto molto complessa come quella dell'aria Giustamente prima il Dottor Valerio accennava al fatto che negli anni il trend di qualità dell'aria soprattutto in Regione Liguria è andato migliorando e questo è assolutamente un dato innegabile così come fortunatamente l'ambiente è andato migliorando in tante altre voci un altro esempio che magari avete sotto gli occhi anche voi ragazzi è quello relativo alle acque di balneazione i nostri genitori erano abituati ad andare in spiaggia con un flaconcino per potersi togliere le macchie di catrame una volta uscite dall'acqua al giorno d'oggi nessuno di noi nessuno di voi ha avuto questa esperienza se non in rarissime occasioni sempre più limitate e per l'aria vale sostanzialmente la stessa cosa mediamente globalmente la qualità è andata migliorando ci sono ancora alcune situazioni puntuali o localizzate che meritano l'attenzione ed è questa l'importanza per cui non bisogna abbassare la guardia ed è questa l'importanza per cui servono delle sentinelle dell'aria per vigilare su questo tema cos'è l'ARPAL? un piccolo passo indietro ARPAL è l'acronimo di Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure forse qualcuno di voi ci conosce per il discorso delle allerte meteo quando c'è l'allerta rosso la scuola è chiusa e quindi si fa un giorno di festa in più non è proprio così la situazione un po' perché l'allerta rossa implica un potenziale pericolo molto grave al suolo con degli effetti al suolo importanti ricorrono proprio in questi giorni gli otto anni dall'alluvione del 2014 di Genova tra un po' sarà il 4 novembre saremo 11 anni dall'alluvione del 2011 e quindi un'allerta rossa che arriva a bloccare l'attività scolastica è proprio un qualcosa di molto grave molto impattante e un po' perché la meteorologia le previsioni meteo rappresentano soltanto una piccola percentuale dell'attività della nostra agenzia aperta e chiusa parentesi siamo nella settimana della protezione civile mercoledì ci sarà un evento in piazza dei Ferrari giovedì pomeriggio tra le 14.30 alle 17 ci sarà il Porta Aperte al Centro Meteo se qualcuno vuole andare a scoprire come nascono le previsioni del meteo si può andare in via le Brigate Partigiane 2 e assistere appunto i nostri colleghi illustrano come svolgono queste attività veniamo agli altri argomenti ARPAR si occupa di aria, di acqua, di suolo di campi elettromagnetici, di radiazioni ionizzanti di analisi chimiche abbiamo una struttura regionale quindi pagata con i soldi di tutti quanti e suddivisa in tre dipartimenti il laboratorio che aiuta anche al progetto sentenale dell'aria grazie alle analisi che vengono fatte sui campionatori passivi per i BTAX, cioè le benzene, toluene, l'etilbenzene, l'ossilene e i SOV abbiamo un dipartimento di controlli che si occupa di andare nelle varie attività si occupa dei cantieri e va a indagare che vengano rispettate le normative ambientali e i permessi che sono stati dati agli imprenditori alle ditte, a chi porta avanti le grandi opere per poter realizzare quello che è il loro scopo rispettando le regole che lo Stato si è dato e poi abbiamo il dipartimento dei monitoraggi che si occupa di fare il film di come sta l'ambiente nella nostra regione ecco, all'interno di questo dipartimento appunto c'è l'unità operativa della qualità dell'aria che è suddivisa in due settori uno di ponente e uno di centro levante e come unità operativa dell'aria abbiamo il compito, tra le altre cose di curare una rete di centraline fisse di monitoraggio della qualità dell'aria che sono dislocate sia in città sia nell'entroterra ovviamente per poter fare anche dei confronti tra dei valori cosiddetti bianchi cioè senza l'impatto dell'uomo della collettività e valori invece dove la situazione è un po' più pesante soprattutto dovuto o a impianti industriali o a traffico traffico che per molti inquinanti è la principale fonte di inquinamento sia traffico stradale sia traffico navale il porto rappresenta un'entità molto complessa e qua veniamo ad un argomento che forse in quanto istituto nautico mi interessa un pochino di più e per molto tempo ha avuto delle regole tutte sue da alcuni anni si sta studiando anche dal punto di vista delle emissioni quindi la qualità dell'aria si monitora con una strumentazione al suolo all'interno di queste centraline fisse che poi magari potremo avere anche l'occasione da andare a visitare proprio in loco per scoprire che strumentazione si utilizza quali sono le regole che deve seguire la calibrazione la certificazione la manutenzione e dall'altro lato c'è un discorso di inventario ossia di simulazioni teoriche di quali possono essere i vari contributi di inquinanti immessi in atmosfera e questo di nuovo è un altro grande programma di simulazione che ha origini europee poi viene calato su realtà via via più piccole regionali cittadine e la regione Liguria ha in mente di aggiornare l'inventario delle emissioni verosimilmente verrà effettuato l'anno prossimo dall'analisi di questi due elementi insieme si arriva a stabilire una valutazione dell'annuale della qualità dell'aria come sta l'aria nella nostra regione lo dicevamo prima abbastanza bene ci sono alcuni inquinanti che sono normati cioè un decreto legislativo cioè un atto che si è dato al Parlamento italiano in cui vengono stabiliti i limiti di legge e in base a questo decreto legislativo la Liguria ha problemi per quanto riguarda il biossido di azoto l'ozono e in un'area molto limitata il benzopireno per gli altri parametri quelli che di solito finiscono nei titoli del telegiornale le polveri sottili ad esempio in Liguria la situazione è decisamente migliore che non in pianura padana pensate che per le polveri sottili il limite è di 50 microgrammi al metro cubo da non superare per più di 35 volte in un anno ora a Genova ma in Liguria in generale le postazioni peggiori sono quelle che risentono di una meteorologia di tipo pianura padana e quindi parliamo di Busalla e parliamo di Cairo Montenotte a Genova la postazione peggiore è quella di via Bozzi che risente pesantemente il traffico stradale ma sia per quanto riguarda la centralina di via Bozzi sia per quanto riguarda Busalla o Cairo Montenotte non andiamo oltre i 15-20 superamenti di questa soglia di 50 microgrammi al metro cubo all'anno in diverse città della pianura padana già a fine febbraio abbiamo superato le 35 giornate di limite e questo è sicuramente un problema l'altro aspetto e poi qui chiudo perché non vorrei rubarvi troppo tempo riguarda alle indicazioni che ha fornito l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo scorso autunno l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emanato un documento ha emesso un documento in cui individua degli interim target cioè dei valori in questo momento non ancora recepiti né dalla normativa europea né dalla normativa italiana con dei valori limiti più bassi di quelli attualmente vigenti e anche delle finestre temporali differenti ad esempio per i biossidi di azoto che già in questo momento su Genova sforiamo quindi già in questo momento siamo al di sopra del valore medioannuale consentito va a introdurre anche un limite giornaliero che attualmente non è previsto per i biossidi di azoto attualmente hai un limite orario a segnalare un inquinamento acuto e un limite medioannuo a segnalare un'esposizione cronica ecco l'Organizzazione Mondiale della Sanità va a introdurre anche un limite giornaliero è una cosa che adesso non c'è e questo era una veloce panoramica per cercare di semplicemente instillarvi l'idea che si tratti di una tematica estremamente complessa a cui bisogna stare dietro giorno e notte in maniera continuativa per lunghi periodi di tempo che è un po' in evoluzione fortunatamente un'evoluzione migliorativa del lungo periodo ma che ancora adesso ha qualche piccolo aspetto a cui prestare molta attenzione e che non bisogna mai smettere di lavorare per cercare di migliorarsi di continuo e con questo messaggio niente vi ricordo semplicemente che sul sito di Arpal è possibile andare a consultare online in tempo reale tutti i dati ed è presente anche il bollettino giornaliero che viene rilasciato il giorno dopo perché semplicemente subisce un processo di validazione che cos'è la validazione? si prendono i dati e si fa una prima analisi sul fatto che siano attendibili o meno perché nonostante la strumentazione utilizzata sia la più sofisticata possibile e si usi in una manutenzione programmata e vengono fatte verifiche periodiche può succedere a volte di avere dei valori che non sono rappresentativi della realtà effettivamente presente e quindi facendo questa prima analisi ci si inizia a rendere conto se i dati misurati hanno un significato o sono dei numeri dati a casaccio bene grazie grazie hai introdotto temi anche un po' complicati immagino quindi non so quanti di voi sanno cos'è un microgram e cosa sono gli ossi d'azoto sono argomenti che comunque tratteremo insieme con voi proprio perché le sentinelle per essere tali devono essere anche sentinelle informate io qui da questo punto partirei con la mia introduzione sperando che non succeda nulla scusate no ho sbagliato eccola qua sentinelle nell'aria no no va bene allora cominciamo con con la nostra presentazione allora voi ecco questo progetto questo progetto nasce da un progetto che è stato promosso dal dal ministero della 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 regione Liguria che ha coinvolto circa 60 organizzazioni cittadine anzi di Liguri che devono che hanno proposto dell'iniziativa a favore dei giovani giovani si intendono ragazzi dai 10 ai 35 anni quindi un ampio gamma e noi abbiamo presentato questo progetto che abbiamo chiamato appunto sentinelle dell'aria voi siete la prima come quindi come come nautico siete la prima scuola che interviene in questo progetto quindi diciamo così fate un po' da pripista perché quello che faremo anche oggi che poi appunto metteremo in attivazione alcuni alcuni campionatori appunto passivi anche su questo poi avremo modo di approfondire lo facciamo per cercare di calibrare bene i tempi necessari per come dire per il campionamento ecco prima Davide Zare abbiamo qui in prima fila quattro vostri coetanei fanno parte di un'associazione che è un nome un po' inquietante si chiama Extinction Rebellion però sono ragazzi tranquilli mi dicono ecco mi posso confermare sono qui perché saranno loro che provvederanno al ritiro dei campionatori dopo aver fatto il campionamento quindi verranno qui e poi saranno loro che andranno a consegnare i campionatori tre plessi scolastici che partecipano a questo progetto sono Simone Matteo Teresa e Tommaso ripeto sono qui poi se avete voglia di sentire un attimo loro comunque verranno anche perché i vostri insegnanti sono d'accordo verranno anche in classe a raccontarvi un po' le loro iniziative allora per essere per essere sentinelle bisogna informarsi quindi approfondire le tematiche che ripeto che abbiamo già accennato nel precedente intervento sono anche tematiche magari una certa complessità ma fanno parte del vostro curriculum formativo insomma alla fine del vostro percorso qui al Nautico avrete un'ampia conoscenza delle tematiche di cui stiamo parlando e questa la sentinella oltre all'informazione devono avere degli strumenti gli strumenti sono quelle che qui vedete elencate allora una mini centralina per misurare polveri sottili sono quelle polveri sottili di cui appunto Grasso vi aveva accennato delle perché noi quello che faremo adesso poi vedremo meglio abbiamo una mini rete che si affianca a quella arpa ovviamente non vuole sostituirsi quella dell'ARPA che chiaramente è quella ufficiale ma come poi vedrete anche con approfondimenti che potremmo fare insieme pur nella loro semplicità forniscono informazioni molto interessanti e sostanzialmente confrontabili con quelli dell'ARPA abbiamo anche un sensore della ride carbonica non so se avete notato questo oggettino qua sulla esattamente è una facsimile dello strumento che avete cos'è la la seconda se non sbaglio metterà in funzione nella nella propria aula lo vedremo poi finita questa conversazione con voi stiamo misurando non so se lo vedete tutti quanti l'anide carbonica presente nella vostra in questo momento qui sta misurando 577 parti per milione una unità di misura particolare ed è già aumentata rispetto al valore di partenza che non ricordo male era un 480 cosa sta misurando sta misurando l'anide carbonica che ognuno di noi sta emettendo vivendo perché tutti gli esseri viventi respirano ossigeno questo ossigeno viene utilizzato per come dire come combustibile per la colazione che abbiamo fatto stamattina il prodotto di scarto di questa combustione l'anide carbonica che se qui non c'è una adeguata reazione andrà progressivamente aumentando è una di quelle cose che affronteremo insieme perché questo strumento vi servirà per capire qual è il momento per aprire le finestre e areggiarle perché come dire respirare l'anide carbonica non fa tanto bene alla salute il limite è 1500 parti per milione siamo a 500 e quindi c'è ancora da ampi margini volendo quando sarei 1500 sono un allarme e ci sarà qualcuno di voi incaricato di aprire le finestre poi quando i valori torneranno i valori normali appunto intorno ai 500 potremo chiudere le finestre e ovviamente per non disperdere il calore poi abbiamo dei campionatori passivi è un modello è questo qui è un oggettino che sembra da nulla ma è un brevetto questo in questo caso è un brevetto italiano che permette di avere misure molto accurate di che cosa in particolare proprio degli ossi d'azoto di cui vi si parlava prima andiamo a vedere allora la mini centralina è questa scatoletta grigia che in questo momento è ospitata nella vostra scuola e in particolare la troviamo in sala professori non nella posizione ottimale ed è diciamo così è una posizione provvisoria ma intanto sta già facendo misure e il fatto che sia nella sala professori non è una come dire una cosa di minore importanza è perché nella come dire nella nostra nella vostra giornata tipo sono molto più le ore che viviamo dentro un ambiente chiuso la scuola la casa piuttosto che all'esterno nei momenti di cui di passeggio quindi il problema di sapere qual è la qualità dell'aria in un ambiente chiuso come può essere la vostra scuola è importante questo strumento è interessante perché misura in continuo le polvere sottili le pm 2.5 un po' di attenzione le pm 2.5 le pm 10 anche di questo poi parleremo nell'incontro che avremo con voi e qui per esempio andiamo a vedere ed è una misura in continuo questa è una misura che è uno screenshot fatta appunto il 3 ottobre 2002 che sta dando l'informazione di qual è la concentrazione di polveri sottili nella sala dei vostri professori sono 3,55 microgrammi per metro cubo di pm5 e la cosa interessante guardate qui per tutta la mattina il valore è molto basso a un certo punto verso le 8 passiamo da 1 a 6 microgrammi ed è questo proprio esattamente il momento in cui l'aula viene aperta e a questo punto la polvere che si è depositata ritorna di nuovo in alto e la possiamo utilizzare sono valori molto bassi come accennava a Genova effettivamente non abbiamo questo problema dei superamenti dei limiti ma è anche vero a questo lo vedremo che le polveri sottili sono problematiche a tutti i livelli quindi non c'è un livello al di sotto del quale non ci sono problemi sanitari anche gravi quindi questa cosa la utilizzeremo oggi in questo momento la mini centralina per le polveri si trova appunto qui da al San Giorgio scusate un po' sei intantata? andiamo a vedere se funziona così ecco però anche in programma appunto qui da noi c'è un gruppo del Nautico del Colombo e anche in programma l'installazione al Colombo non c'è perché al momento appunto questa mini centralina come dire è un progetto nato a Firenze un'associazione che si chiama Mamme No Inceneritore e già questo vi dà un po' un'idea per quale motivo si siano attivate è un altro di quei problemi aperti insomma come gestire i nostri scarti in modo che non sia impattante uno degli argomenti che forse le sentinelle potrebbero in qualche modo a cui potrebbero interessarsi al momento non è disponibile una centralina però è stata ordinata quando sarà ordinata quando arriverà verrà posizionata sul vostro terrazzo il vostro professore ha già visto il posto dove può essere messo questa centralina dicevo prima appunto misura in continuo ogni 5 minuti da un dato un dato numerico e la cosa interessante è che e quindi verrà posizionata anche da voi quindi potremmo confrontare tra l'altro anche questa centralina che al momento nella sala professori qui verrà posizionata all'esterno il professor Sacco si sta occupando di questo e c'è un problema di fare un collegamento elettrico in sicurezza insomma per poterla mettere in funzione all'esterno quindi questa cosa ci sarà e potrete appunto monitorare anche questo parametro ora vediamo se qui funziona ecco la cosa interessante che le questa centralina come accennato prima fa parte di una rete che io chiamo una rete di monitoraggio popolare e qui sono 13 mini centraline come quelle che aspettate voi da Pra a Bogliasco con il software che quindi vedete come sono distribuite la maggior parte quindi c'è anche la vostra qui al al nautico ne abbiamo un certo numero posizionate nella val nel Val Polcevera e posizionate o nelle scuole o nelle loro vicinanze delle scuole che hanno aderito a questo progetto se vi interessa già col vostro cellulare andando a questo praticamente andate a vedere che aria tira punto iti potrete vedere in questo momento qual è la qualità dell'aria qui ma anche all'esterno nelle stazioni più vicine non vi faccio vedere la modalità di intervento ma potete divertirvi voi perché ripeto farà parte del vostro del vostro percorso formativo cercare di capire come come le cose vanno quali sono i parametri importanti che condizionano la canalità dell'aria e così via quindi un un esperimento molto interessante del sensore ne abbiamo visto quindi serve per le cose che abbiamo detto ma può servire anche per fare piccoli esperimenti uno che ha suggerito al vostro la vostra rissegnante è quella di dare vedere cosa succede quando si mette questo sensore dentro un piccolo catino con un bicchiere accanto e nel bicchiere si versa dell'acqua gasata avete un'idea di cosa possa succedere? aumenta la misura dell'anidride carbonica perché la gasatura è proprio l'anidride carbonica ad alta concentrazione è uno dei piccoli esperimenti che se volete potete fare abbiamo quasi finito questa cosa ecco andiamo a vedere il parametro poi forse un pochino più importante scusate vediamo se ci riesco ecco qua il campionatore passivo è come dire apparentemente una cosa molto semplice ma dietro c'è veramente anni di studio di lavoro addirittura questa cosa è stata coinvolto il laboratorio ISPRA dell'Unione Europea un laboratorio internazionale dove c'è una parte dedicata alla sperimentazione di questi che vengono definiti campionatori passivi passivi perché si chiama passivo perché non c'è nessuna parte in movimento quindi non c'è bisogno di collegarlo alla presa elettrica è una cosa come vedete molto piccola e molto semplice si basa anche qui poi l'approfondiremo insieme sul tubicino azzurro che vedete è una membrana che permette il passaggio dell'inquinamento dall'esterno all'interno all'interno c'è una cartuccia si chiama proprio così che assorbe in questo caso gli inquinanti quello che non interessa è proprio il biossido di carbonio l'enio 2 quindi quell'inquinante che come si diceva Genova non rispetta anzi che ha rispettato soltanto durante il periodo della chiusura generale covid quindi quando siamo stati tutti in casa e le macchine circolanti anche le navi circolanti in mare erano molto poche per la prima volta mi pare da dieci anni a questa parte da quando la rete di monitoraggio è stata attivata a Genova non si sono misurati dei superamenti anche neanche giornalieri quindi gli ossi d'azoto che si formano quando l'azoto reagisce con l'ossigeno dell'aria in presenza di alte temperature quindi la tipica situazione è un motore endotermico di una macchina di un motore diesel ma anche di un motore endotico quindi chi senz'altro queste cose le state studiando cambiano le dimensioni ma il problema dal punto di vista ambientale è esattamente lo stesso una formazione di quelli che vengono chiamati ossi d'azoto che hanno problemi sanitari anche molto gravi che quindi bisognerebbe quindi questo lo bisogneremo fuori dalla scuola abbiamo predisposto qui lo vediamo sul nostro terrazzo l'altro giorno abbiamo posizionato vedete quel box grigio è praticamente una scatoletta di protezione dalla pioggia all'interno vabbè qui c'è una simulazione c'è esattamente il campionatore che andremo a posizionare tra poco perché adesso praticamente abbiamo finito ed è come vedete esattamente sul terrazzo della vostra scuola allora quali sono gli obiettivi di questa di voi che diventerete setere non ve la voglio far lunga l'obiettivo è quella di aumentare la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza di respirare aria buona abbiamo cominciato oggi e vedremo nei prossimi giorni misurare appunto l'inquinamento a scuola e a casa scoprire quali sono le fonti inquinanti e contribuire alla loro riduzione anche a casa anche a casa c'è questo problema e conoscere il lavoro di chi studia e chi controlla la qualità dell'aria appunto di ARPAL avremo la possibilità di visitare i laboratori in particolare il laboratorio che analizzerà i composti organici volatili che sarà una parte del progetto che faremo allora ecco diciamo finisco con questa immagine perché c'è un compito importante che potreste fare qua ne abbiamo parlato con i ragazzi più grandi un bollettino settimanale questo è un facsimile un bollettino che abbiamo fatto come costituto nei mesi passati e vengono riportate le concentrazioni settimanali quindi PM10 e PM25 misurati dalla rete popolare quindi la mini centralina che abbiamo messo e anche dalla rete ARPAL adesso non so se l'immagine si vede con chiarezza provo a fare un tentativo non si vede a pieno schermo non si vede a pieno schermo niente allora dicevo come si può vedere una volta corretto il dato ed è una cosa che poi magari approfondiremo praticamente abbiamo confrontato i dati della mini centralina con quelli di ARPAL quindi che ci ha ospitato e abbiamo potuto correggere perché c'è quale problema la cena soltanto rapidamente il sensore che di questa centralina è un sensore ottico un raggio laser che illumina le particelle che passano e la luce riflessa viene trasformata in un segnale elettrico che a sua volta viene trasformato in concentrazione tutti i dati genovei delle nostre centraline posizionate qui a Genova danno misure più basse di quello che l'ARPAL misura in modo sistematico il motivo quasi sicuramente il fatto che a Genova ci sono quelle cosiddette carbon black particelle carboniose nere che assorbono la luce e quindi come dire accecano in qualche modo questo sensore è uno di quegli argomenti che se vi interessa se ai vostri professori interessa potremo approfondire per tanto per chiarire ma meglio come funziona il tutto e per poter eventualmente elaborare un bollettino dei dati diciamo grezzi e dei dati corretti da poter divulgare finisco col fatto che ovviamente conto anche molto sulla vostra passione dei social tutta questa esperienza potrebbe essere come dire in qualche modo inserita e raccontata non dico giorno per giorno fatta conoscere i vostri coetanei perché è una esperienza importante e concludo dicendo una cosa che non ho ne ho dimenticato questa esperienza che faremo con campionatori passivi a casa e a scuola è la prima volta che viene effettuata a Genova quindi è come dire saremmo anche qui dei pionieri sarete dei pionieri per capire qual è la situazione appunto dentro le case e ovviamente sia per come la casa viene gestita ma ancora di più come la casa dove si trova se si trova una zona a rischio inquinamento oppure no e quindi come dire tra due o tre mesi quando avremo finito questo intero progetto faremo la sintesi e comunicheremo anche alle amministrazioni locali inviteremo perché no il sindaco che come dire il maggiore responsabile della salute pubblica a ragionare su questi numeri per fare tutte quelle cose che ancora non si sono fatte per permettere che l'area di Genova perlomeno rispetti tutti i limiti come la legge prevede io avrei finito se ci sono vostre domande abbiamo eventualmente un microfono e se no andiamo possiamo andare nell'aula la seconda per andare a predisporre i vari campionatori qualche domanda tutto chiaro? se ci sono delle domande abbiamo i microfoni a posto? ma di voi ci dovrebbe essere già qualcuno che è stato scelto come sentinella no? chi sono? vi è tutto chiaro cosa dovete fare? vabbè forse laggiù c'era una domanda non scatenatevi troppo abbiamo finito c'è una domanda forse abbiamo visto una mano alzata? no? è tutto a posto? va bene vuol dire che siamo stati chiari niente allora vi ringrazio ci rivediamo appunto adesso andiamo nella seconda A per posizionare i vari campionatori e vedremo ci risentiremo tra 15 giorni vi comunicheremo i risultati che abbiamo ottenuto va bene grazie a tutti buona giornata a tutti arrivederci buon lavoro buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti